Il nuovo successo è quello che si è registrato nel weekend appena trascorso per il Natale delle Meraviglie. Oltre 700 le persone che sono giunte ad Agropoli per ammirare il castello incantato e per far visita alla casa di Babbo Natale, che si sta rivelando l'attrazione preferita da residenti e visitatori. Un flusso continuo di persone hanno affollato l'antico maniero che domina la città per entrare nella dimora di Santa Claus, curiosare nella fabbrica dei giocattoli, imbucare la letterina, intrattenersi con Babbo Natale in persona e fare una foto con lui. Un grosso riscontro è stato registrato anche dal Natale Gentile. Sono stati circa 400 i piccoli elfi, correlativi accompagnatori, che, moneti di passaporto, hanno girovagato per i negozi cittadini, hanno apprezzato le varie attrazioni rappresentate dalla Natività, la console Xbox gigante, il selfie box, i laboratori didattici e creativi e tanto altro, prima di raggiungere il capolinea presso il castello incantato ed essere nominati Elfi del Natale Gentile. Interessante il dato delle provenienze, oltre a tanti residenti e persone del comprensorio occidentano, ci sono stati visitatori provenienti dal napoletano, Cosenza, Gioia Tauro, Agrigento, Torino e Frosinone. Tante le iniziative collegate, operate in collaborazione con i commercianti, che hanno ravvivato le diverse aree cittadine. Appuntamenti che proseguiranno anche nel corso delle prossime settimane. Mercoledì 19 dicembre alle ore 18, presso il Cineteatro di Filippo, si terrà uno spettacolo a cura della Scuola Media Vairo di Agropoli. Giovedì 20, alle ore 18, l'appuntamento è con Babos Band, musica itinerante, confiate e percussioni per le vie del centro. Venerdì 21 dicembre, triplo appuntamento. Alle ore 17, infatti, in Via Patella, ci sarà A Christmas Dance, esibizione di danza a cura di Mova Dance di Valentina Montone. Alle ore 18, spettacolo di musica dal vivo per le vie del centro. In piazza Vittorio Veneto, spazio a I Vellute e Iori. In corso Garibaldi, Cavalieri dello Zodiaco. Alle ore 19, presso il Palagrine di località Moio, si terrà lo spettacolo di danza a cura di Fit Dance di Agropoli. Il castello incantato e operativo dal lunedì al giovedì, dagli ore 17 alle 20. Ogni venerdì, sabato e domenica, dalle 17 alle 22. Il Natale è gentile dal venerdì al sabato, dagli ore 10 alle 13 e dagli ore 17 alle 20 e 30.